Come facevi prima di scoprire internet via onda radio? 3 km al giorno per mettere dei like Cosa fai con la tua connessione veloce? Mi informo, mando mail e tutte le altre cose che fate anche voi Cosa pensi del vino in cartone? È ottimo per disinfettare E il tuo ultimo acquisto online? Una zamponia, bluetooth Come hai convinto i tuoi figli a regalarti il tablet? Gli ho detto che altrimenti li avrei tolti dal testamento Come comunicavi con loro dieci anni fa? Non avevo internet ed era più costoso E oggi? Finalmente ho stabilito il controllo Cosa pensi degli hashtag? Che non servono ad un cavolo E dei meme invece? Quali li adoro La serata perfetta? Netflix e Straccetella Il primo sito che guardi alla mattina? Non te lo posso dire Realtà aumentata o realtà virtuale? Alla mia età qualsiasi cosa serve per aumentare E benvenuta Ultima ricerca su Google Come rispondere alle domande stupide Il tuo provider internet? Eolo è giovane, veloce e arrivo ovunque Anche qui Oh, thank you Thank you, Jesus